Siamo qui nel decimo municipio, nella zona di via Casana e dintorni, una zona che è piena di voragini. Gli abitanti conoscono bene purtroppo questo fenomeno e oggi siamo qui per vedere l'inizio dei lavori. ACEA ha finalmente iniziato a scavare, dopo anche mesi di ispezioni effettuate solamente nelle tubazioni, ha iniziato a scavare per capire innanzitutto l'entità del danno che si è creato e per avviare i lavori di ripristino. C'è stato un grande lavoro coordinato dalla consigliera Agnello, che ringrazio, e che ha riuscito a mettere intorno al tavolo durante questo anno tutte le parti interessate, ACEA, Simo, municipio. E finalmente oggi si parte per poter risolvere il problema in maniera definitiva dopo anni. L'effetto negativo della mancata sistemazione di queste voragini è la chiusura progressiva di tutte le attività commerciali degli intorni. Solamente pochissimi sono rimasti e hanno resistito. Nel frattempo qui le strade sono sostanzialmente morte. Speriamo quanto prima non solo di risolvere il problema per riaprire la viabilità, per sistemarlo definitivamente, ma anche per far rinascere un tessuto produttivo.